Allora noi andiamo a Clusone, la perfida Clusone, vicino a Bergamo, perché un uomo, Omar, ha deciso così di rivalutarne il territorio. Diverse domande vengono alla mente. Omar, benvenuto. Ciao, grazie. Buonasera, tu ti sei reinventato, come si dice, promoter del tuo territorio. Tuo territorio non penso, perché tu sei originario di dove, Omar? Io sono originario dall'Argentina, sono qui in Italia dal 1990. Ah, ok. E tu vivi a Clusone. Dall'Argentina a Clusone, scusami. Perché? Sì, non è molto dalla pampa. Clusone non è forse il massimo, però cos'è che c'è di bello a Clusone? Perché? Quindi vuoi valorizzare il territorio? Ma sinceramente a Clusone c'è tanto da vedere. In tutta la Val Seriana ci sono tante cose belle da vedere. Non a caso anche gli atleti che arrivano dalla Val Seriana hanno vinto anche due medaglie d'oro, ci sono le cascate che hanno vinto anche in Oscar e quindi c'è tanta bellezza attorno alla Val Seriana. Ecco, che lavoro facevi prima di appunto fare il promoter? Ma ho sempre fatto un'attività di assicurazione, ho lavorato per vent'anni nel settore, ma sempre reinventandomi qualcosa di nuovo. Quindi ho avuto locali, ho fatto degli eventi, manifestazioni, e quindi non sono mai stato fermo perché non amo la monotonia. Per sfuggire alla finanza, lo diciamo anche per la monotonia. E senti, come è nata quest'idea invece di valorizzare la Val Seriana e Clusone? Cioè da cos'è che ti è venuta? È stato il giorno che hai detto cambio? Poi approfondiremo, poi approfondiremo. Anzi, approfondiremo sicuramente dopo. Tu hai fatto una domanda sul pelo, sul filo del rasoio. Per dare tempo alle nostre amiche, Omar, di così... Pensarci, sviluppare una bella risposta. Ritorniamo in provincia di Bergamo, a Clusone, voi dite perché? Esatto, proprio perché. Perché lì c'è Omar, il nostro ospite Omar, bentornato. Ciao. Stai dormendo, stai dormendo Omar? Ho sempre il fisso orario con l'argentino. Sì, devi togliere, nel cervello ce l'hai, devi togliere il viva voce e mettere il telefono vicino alla bocca. Sentiamo malissimo. Anche il telefono era un po' in Argentina, diciamo. Eccomi. Ecco, va bene, non si sente benissimo. Comunque, tu perché tra l'altro nel 1990 sei venuto in Italia dall'Argentina? Cioè per lavoro oppure per qualcos'altro? No, beh, mia madre ha delle origini bergamasche, quindi sono venuto per famiglia. Ho capito. Ok, ok. E a Clusone hai trovato un po', diciamo, il tuo futuro. Ma in cosa consisterà? Entriamo un po' nel vivo di questo bellissimo festival Tussiche Valles. Ricordiamo Tussiche Valles, giusto? Sì, Tussiche Valles. L'italiano e con doppia L. Ecco, quando hai partorito quest'idea e anche il titolo, soprattutto io voglio sapere il momento preciso della giornata in cui ti è venuto in mente il titolo. Ma vedendo crescere i miei figli vedo che c'è bisogno di fare qualcosa per aiutare il territorio a sviluppare il turismo e perché loro possano ritrovare un entusiasmo per tornarci sempre sulla terra. Ma praticamente in cosa consisterà questo festival? Cosa ci sarà? Si mettono in mostra tutti i talenti che sono della Val Seriana o che sono legati al territorio della Val Seriana di vario genere. E quindi sia dalla cucina, il canto, la musica, i talenti, l'illusionismo, i caloretti. Sai cosa? Sono le tipiche sagre di Vigiani questo. Voi dovete contattare Max Vigiani, la mail, vabbè, potete vedere. Perché lui può fare da animatore questa cosa e ce lo vedo bellissimo. Non guida, quindi bisognerebbe venirla a prendere, però solo questo. Lo veniamo a prendere, lo veniamo a prendere. Ma senti, quindi sarà una cosa più culturale. Noi ci immaginavamo invece, non so, la salamella cotta nei tendoni tipo festa dell'unità, invece no. Invece no. Ci sarà anche quello, ci sarà anche la cucina locale, e quindi in piazza. No, perché se no Max Vigiani non viene in piazza, ma per quello. Ora, se c'è il Vigiani dall'Argentina per promuovere il nostro territorio. Noi ci scherziamo, però ha avuto una bellissima idea. Tra poco torneremo a parlare con lui. E poi promuove il nostro cibo, cioè non è che è venuto qui a portare la carne argentina. L'asado, quelle robe lì. Caso un sei con un bel burro. Ideatore di questo festival, insomma, per promuovere la valle. Diciamo, questa quindi è la tua occupazione principale, quindi d'ora in poi lo sarà, oppure fai anche altre cose nel frattempo? No, ho anche un locale a Clusone, ma diciamo che l'attività principale che sto facendo da un anno a questa parte è organizzare questo talent. Il re di Clusone, praticamente. Stiamo parlando con il reuccio. Ma senti, quindi sarà la prima edizione questa, giusto? Per la prima edizione siamo riusciti a contrattare dei personaggi molto importanti nel mondo dello spettacolo, anche il direttore. Antonella Salvucci, che sarà la madrina e nonché la conduttrice del talent. Sì, poi? Ilio Mascrone, il direttore artistico. No, è che noi siamo ignoranti, noi non lo facciamo. Ilio Mascrone, il direttore del Gran Galà della Stampa, del Festival di Sanremo e del direttore di diverse testate giornalistiche. Senti, ma come ci si sente a doversi reinventare continuamente? Tu hai avuto molte occupazioni, eri nel campo delle assicurazioni, hai l'operto locale, adesso questo festival? Eh. Ma ci si sente sempre molto vivo, nel senso, reinventarsi in qualcosa ti dà una carica giusta ogni giorno. Una carica giusta. Eh, non ci si sente più caro. Noi ci sentiamo male. Va bene, senti, noi ti abbracciamo, caro Omar, direi che... Quando si tiene il festival? Aspetta, perché bisogna... Inizio e l'otto di giugno con una cena di gala, con diversi artisti e anche con... Un artista, di un artista, dai. Eh, Tony Sposito, per dirne uno. Per dirne uno, eh. Sì, sì, sì. Un po' dopo. Sì, 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 ma arriverà Max Vigiani e vedrai che svolta, contattalo. Svolta, contattalo. Svolta, contattalo. Vabbè, possiamo finire questa bella apparezza di radio? Sì, 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 sì. Possiamo mettere un punto a questa roba del pezzi. Grazie, grazie Omar, anche lui si è reinventato. Scoprite tutte le interviste di Generazione Cervellini sul sito rtl.it. Se uno ha ascoltato questi, dice, sono tutte così, cioè, metti il lotto. Non sono tutte così. Comunque, mi piacerebbe andare a chiusone. Vai, vai.